Il mio padre avevo 15 anni, il mio padre avevo 15 anni, ero con il carinetto, c'era la roccia di blu, una volta ero giù che metteva un bel gelatone così con le mamme, io gli ho detto subito, subito, con le mamme, io gli ho detto, subito, 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 subito. subito, 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 sub Ieri ho trovato, ho trovato, ragazzi, vabbè, non ce l'ha finito la prima volta. Il cantante Neko, il cantante di musica divina, vabbè, Neko, eh, e con D'Angelo adesso ho trovato. Ofisato, ragazzi, è normale, vabbè, Neko, d'Angelo, contemporaneo, come об2016, ma io vorrei parlare, chungi, ah, e inizia lui! Rp, d'Angelo, approfarsi, ne vabbè, subito la prima volta. Grazie a tutti.